Taranto presentazione della lista cittadini pugliesi con Mario Conca candidato alla presenza della regione Puglia, la presenza autorevole del senatore Gianluigi Paragone, leader di No Europa per l'Italia, Italexit, un modo di incontrarsi con la stampa prima e con la cittadinanza per spiegare questa sfida, una sfida Conca che si muove trasversalmente rispetto alle forze tradizionali, a quelle che sono più o meno le forze dell'arco costituzionale, una sfida di forte impegno e di forte dignità? Sì, come l'ho chiamata io è una legittima difesa contro un sistema di potere che spaccia diritti per favori, o li nega, consuma mercimoni quotidiani, spreca denaro, è immeritocratico e profondamente ingiusto, quindi è un estremo tentativo di difendere i cittadini pugliesi e soprattutto la prosecuzione di quello che è stata la mia legislatura in questi anni dove per difendere loro mi sono preso tre querele da parte del Presidente Emiliano, una querela da un primario del Santissima Annunziata qui a Taranto, ma quella del comandante dei vigili contro un autovelox illegittimo, ma anche minacce di querele e tentativi di corruzione perché in cambio di silenzio volevano offrirmi posti di lavoro. Ecco, io non potevo ovviamente assecondare le sirene omeriche che provenivano dall'intero arco costituzionale, Emiliano mi voleva nominare l'assessore, Fitto mi ha cercato, ma anche lo stesso Scalfarotto, ma ovviamente per me quello è il sistema e io sono l'antisistema che è una parola che non mi piace, sono semplicemente una persona che si è battuta per i cittadini e per loro vuole continuare a farlo, questo è il mio obiettivo, questo è il nostro obiettivo, ci sono migliaia di persone che si stanno muovendo e noi andiamo avanti arroganti dalla nostra buona fede. Calandoci sulla realtà di Taranto, viviamo il dramma Ilva-Arcelor Mittal, tante promesse di chiusura da parte del Movimento 5 Stelle, ora al governo, ma Arcelor Mittal a piede libero in questa città. Certo, io ho fatto parte per tanti anni del Movimento 5 Stelle, poi mi hanno fucilato alla schiena perché ho ritenuto troppo ingombrante e forte per la mia competitor, ma io da sempre, anche quando stavo nel Movimento, ho sempre dichiarato che Ilva andava chiusa, punto, perché per me non c'è sostenibilità economica davanti al pericolo di morte, contro inalazioni di morte che lentamente ti uccidono, anche perché il veleno è a rilascio prolungato, Mittal è venuta per chiuderla definitivamente, Ilva l'ha chiusa il mercato perché se non raggiungi 8 milioni di tonnellate non raggiungi il punto di pareggio, c'è la Cina che ne fa 900 milioni, non è un asse strategico e poi qualcuno si dovrà decidere se dobbiamo investire in turismo, in agricoltura, in energia pulita, in enogastronomia e allora il siderurgico non ha senso e non ha ragione di esistere, quindi io da anni lo dico, lo ribadisco, sono credo l'unico Presidente a dirlo chiaramente, tutte quelle cose, quelle parole come decarbonizzazione, rigassificazione, idrogeno non mi appartengono. Ilva va nazionalizzata, la stragrande maggioranza dei dipendenti sono già sul groppone dello Stato in cassa integrazione tra indotto e come diretti, noi dobbiamo semplicemente fare una legge speciale, nazionalizzare, chiuderla, allocare il personale in tutti i reparti della pubblica amministrazione, dalle scuole, ai comuni, alla finanza, alla giustizia, dovunque con una legge speciale. Uno Stato che ha 3 milioni di dipendenti, di cui 250 mila insistono da lavorare a 20 mila persone che già in buona parte sono a suo carico, quindi per me l'Ilva va chiusa, punto. Mario Conca, chiusura dell'Ilva, chiusura del mostro, ma poi come ripartire per far sì che la salute sia assicurata, ma anche l'occupazione? Sicuramente la stratificazione dell'inquinamento produrrà ancora danni per decenni, ma ovviamente bisogna chiudere tutto perché ci deve essere un punto fermo. Ovviamente nelle more che si decida che fare di quella struttura e di quelle strutture e di quel letteraggio, bisognerà preoccuparsi invece delle infrastrutture che mancano, della viabilità, della dorsale verso il tirreno, delle autostrade, della grande velocità, dell'aeroporto di Taranto e Grottaglie. Bisognerà ovviamente preoccuparsi di creare l'infrastruttura perché nelle more della bonifica e della messa a punto di nuovo piano per Taranto che vada a valorizzare quell'area che sia conciliabile con la bellezza, con l'archeologia, col mare, col turismo, con la mitilicoltura, con l'agricoltura che peraltro oggi non prevede l'utilizzo di fondi perché è incompatibile con il siderurgico. Ecco, lo Stato deve finanziare, qualcuno dovrà dirci questi fondi FESR perché non arrivano a Taranto, perché non si riesce a garantire un'infrastruttura che invogli poi a venire a sfruttare. Ecco, questo io spero, io lo dico chiaramente, invito i miei competitor a farlo perché piuttosto che nicchiare e dire tutto è il contrario di tutto, oggi è il tempo di agire. Bisogna avere il coraggio di cambiare e andare soprattutto alle urne perché il 50% dei tarantini, ma dei pugliesi in generale, nel 2015 non ha votato. Ecco, se solo la metà di loro andasse a votare per la lista cittadini pugliesi, io diventerei Presidente della Giunta regionale e potrei andare a battere i pugni sui tavoli romani per farci rispettare perché noi siamo il tacco dell'Italia e siamo una regione molto bella che può e deve avere un futuro diverso.